Decisa frenata dei profitti del comparto industriale cinese, in quello che per i analisti è l'ennesimo segnale di rallentamento economico, ad agosto l'Ufficio Nazionale Statistiche ha registrato un calo dell'8,8% dei utili rispetto all'anno scorso. Colpa dell'effetto combinato dell'aumento dei costi di produzione e del calo dei prezzi dei beni, anche le recenti turbulenze sui mercati finanziari si fanno sentire, con i ritorni sugli investimenti notevolmente diminuiti rispetto a luglio. Da ultimo si segnalano le difficoltà delle aziende esportatrici di fronte alle fluttuazioni del cambio.